ragazzi siete collegati con corridore nato mickey crow che vi fa intanto gli auguri di buona pasqua ragazzi buona pasqua e pasquetta e andiamo subito alla shop fornite di oggi primo aprile ragazzi ed ecco la prima skin in questione ant diamante skin da 1200 bubax fa parte del set fino alla luna capitolo 2 stagione 6 e il suo dorso decorativo incassi guardate la ripeto 1200 bubax per averlo e passiamo due conigli con il primo coniglio mastino skin da 1500 bubax dei suoi due stili ragazzi due colori fa parte del set patuglia pastello stagione 3 e il suo dorso decorativo guscio d'uovo anch'esso nei suoi due stili ragazzi guardatelo e passiamo all'altro coniglio sempre da 1500 bubax coniglio incursore guardatelo sempre che sono i suoi due stili ragazzi e il suo guscio d'uovo l'uovo solo ragazzi nei suoi due colori ecco il dorso decorativo ragazzi ok raga adesso si passa al loro bastone strumento di raccolta bastone carota 800 bubax per averlo e passiamo l'anatra anatrella skin da 800 bubax ragazzi nei suoi quattro stili quattro colori ragazzi guardatelo fa parte del set squadra starnazzante capitolo 2 stagione 2 800 bubax per averlo ed ora due skin molto belle fanatica 1200 bubax fa parte del set spirito di squadra capitolo 2 stagione 6 questa è la donna col suo dorso decorativo bagaglio a mano ragazzi 1200 bubax per averla ed ecco l'uomo duello 1200 bubax per averlo il suo dorso decorativo potenza artigliata ed ora il loro strumento di raccolta mani ascia 500 bubax per averlo e il suo deltaplano rapace sterzante 800 bubax per averlo ed ora si passa a due skin molto sportive terza base skin da 1200 bubax fa parte del set 3 attacchi stagione 8 sul dorso decorativo doppio gioco ed ora il maschio l'uomo skin da anch'essa da 1200 bubax supermazza supermazza col suo dorso decorativo zona dello strike ragazzi ed ecco lo strumento di raccolta grande slam 500 bubax per averlo e il suo deltaplano fuoricampo 500 bubax per averlo ed ora ragazzi scatenata skin da 800 bubax stagione x è molto bella molto trial e piace molto assassino artico che si era già presentata nello show diverso tempo fa 1200 bubax da parte del saccomando artico stagione 1 ed ora alcune morte uovo mancato stagione 6 capitolo 2 200 bubax per averlo ecco già morì 500 bubax stagione 7 ed ecco campana lama 800 bubax stagione 5 e poof 200 bubax stagione x ed ora si passa ad altre skin dutch skin da 1200 bubax capitolo 2 stagione 6 e il suo dorso decorativo chiave schele coniglio guardate che bel coniglio nei suoi tre colori dei suoi tre stili ragazzi guardatelo qua e ovviamente anche la chiave schele coniglio dei due colori disponibili 1200 bubax per averlo ripeto ed ora presente da alcuni giorni la skin stella 800 bubax qua cambiiamo un po perché l'abbia già vista il germoglio e anche killer sorpresa era già presente guardate l'ampia con il suo prezzo relativo e la sua copertura ragazzi ed ora ragazzi presente da diversi giorni la skin stella e 1800 bubax con suo katana il pacchetto banderide vede che l'ultimo per acquistarlo 20 euro e 09 e infine per sciopparsi 25 livelli di pass battaglia 1850 bubax per averla ragazzi carrellata veloce di questi ci soffermiamo su soprattutto questo ricordo anche lo strumento di raccolta candelofra 800 bubax che fa parte del capitolo 2 stagione 6 molto carina ditemi cosa ne pensate quale vi piace di più a me non dispiace assassino artico anche questi due fanatiche duello e strumento di raccolto mani ascia molto bello voi cosa ne pensate ragazzi ed ora passiamo ai soluti finale ragazzi corrido renato mickey crow vi saluta vi invito a mettere un like al mio video di iscrivervi al mio canale di youtube mickey crow e alla pagina facebook mickey crow ragazzi buona pasqua voi e famiglia ciao ragazzi